ben ritrovati su Telerama un saluto come sempre da Giuseppe De Vitis abbiamo avuto un generale miglioramento ma c'è sempre un ma nella vita avremo un nuovo progressivo peggioramento guardate infatti tempo miglioramento ecco la nuova perturbazione in arrivo che attraverserà la penisola italiana andiamo a vedere cosa succederà nel dettaglio già molte nuvole in mattinata soprattutto sui settori più settentrionali la nuvolosità poi tenderà a raggiungere anche i settori meridionali quindi progressivo peggioramento progressivo aumento di nuvole in mattinata ma non sono previsti fenomeni significativi nel pomeriggio invece i rovesci di pioggia temporali a partire dai settori più settentrionali qualche isolato episodio di temporalesco rovescio di pioggia anche più a sud poi in serata avete instabile con rovesci di pioggia temporali come detto appunto nella giornata di mercoledì tenderà progressivamente a peggiorare in mattinata ancora ci salveremo un vediamo le temperature temperature che non faranno registrare grandi cambiamenti tra l'altro il vento sarà debole pochi sbuffi da nord sull'alto versante adriatico per intenderci sulla costa brindisina mari quasi calmo lo ionio quasi calmo il basso adriatico quindi il canale d'otranto quasi calmo poco mosso invece l'adriatico settentrionale e io mi fermo qui ci aggiorniamo nei prossimi appuntamenti arrivederci